Morciano di Romagna investe in eventi ed ampliamenti. Quattro gli appuntamenti nei weekend di novembre realizzati da Blu Nautilus e una camminata a scopo benefico che si svolgerà per le vie del centro domenica 5 dicembre. Il tema saranno gli Elfi con costumi da indossare in vendita a 15 euro. Il ricavato sarà devoluto alla famiglia di Michelle, una bambina di 8 anni di cattolica che a causa di una rara patologia necessita costose cure in America. A marzo 2011 invece ci sarà l'inaugurazione del nuovo padiglione fieristico il cui inizio lavori è previsto per il mese di dicembre. La superficie della fiera raddoppierà ed il comune si arricchirà di una struttura polifunzionale abile ad ospitare eventi di ogni genere. Nascerà così Morciano Fiere. Partiamo con affari privati che è una nuova manifestazione e proseguiremo con Expo dell'Elettronica, Fiera dei Golosi e Morciano Antico. Siamo partiti appunto con la costruzione, con l'ampliamento del padiglione fieristico e anche con il lancio di questo nuovo marchio, quindi Morciano Fiere, perché già nel giro di un anno a Morciano siamo arrivati quasi a 7-8 manifestazioni e quindi è giusto che ci incominciamo a far conoscere con un nuovo slogan, con un nuovo marchio. Per noi è molto importante, è una grande opportunità che diamo al nostro paese considerando che è un paese estrettamente commerciale, l'attività economica più importante è il commercio. In pochi metri quadri abbiamo circa 150 attività economiche. Questo padiglione verrà pronto per San Gregorio, San Gregorio dal 5 al 13 marzo, e quindi ci sarà una doppia inaugurazione sia della fiera e del padiglione. Direi triple inaugurazione perché stiamo già lavorando per una nuova manifestazione nel nuovo padiglione, manifestazione che prenderà il nome di Viaggiando. Come capite dal nome è una manifestazione sul turismo, verranno località da ogni parte d'Italia a promuovere i loro territori. Anche di questo noi siamo molto orgogliosi e stiamo lavorando appunto che Morciano Fiere cresca sempre di più e sempre più di nuovi eventi. Un poker di manifestazione, diciamo che sfodelliamo il nostro poker d'assi, speriamo sia così. Iniziamo domenica 7 novembre con Affari Privati che è una manifestazione nuova, non solo per Morciano ma per tutta la provincia di Rimini, un mercatino assolutamente aperto solo ai privati. Proseguiamo con Expo Elettronica che invece è una mostra mercato dedicata all'elettronica di consumo, già conosciuta nel nostro territorio e non solo. Appuntamento ancora con la Fiera dei Golosi per cui un grande evento di piazza che esce anche dal padiglione fieristico e prosegue fino al centro di Morciano. E infine concludiamo con Morciano Antico, la mostra mercato di Alto Anticoariato, anche questa l'unica in Balconca.